Prove tecniche di convergenza Palazzo San Francesco su una strategia bipartisan che veda amministrazione e minoranza impegnate sul fronte comune del piano operativo sanitario varato dal commissario straordinario alla sanità Donato Toma e che vede una levata di scudi contro lo spettro del trasferimento del reparto di emodinamica dall'ospedale di Isernia a quello di Campobasso. Mentre l'aula cerca la quadra la consigliera comunale nonché deputata di Fratelli d'Italia Elisabetta Lancellotta conferma che nell'agenda del governo centrale ha già trovato posto la questione Molise. Sì assolutamente il decreto Molise, la questione Molise ha fatto parte della nostra campagna elettorale, noi già abbiamo fatto sì di creare degli incontri importanti sul territorio romano a Roma, siamo in attesa del governo per poterli interroguire immediatamente con il ministro della sanità proprio per la questione del decreto Molise che dovrà portare immediatamente un azzeramento del debito e la foruscita del commissariamento ma la cosa fondamentale è quello che noi dobbiamo fare soprattutto è anche capire cioè capire andare a risolvere le cause che hanno portato assolutamente a questo debito che poi e quindi al commissariamento per cui massima attenzione al tema della sanità ci dedicheremo lo stiamo già facendo e porteremo cercheremo di portare i risultati immediatamente siamo in attesa però della costituzione del governo. Ci sarà anche il POS tra gli argomenti che saranno sottoposti all'attenzione del futuro ministro? Assolutamente sì, so che è stata presentata una bozza del POS, noi chiederemo anche un'aderoga del decreto Balduzzi che era stato il decreto Balduzzi sappiamo è stato dedicato alle aree metropolitane ma la regione Molise è una regione piccola che ha un numero di abitanti sicuramente inferiori quindi deve essere chiesta un'aderoga al decreto Balduzzi e lo faremo. A sorpresa tra il pubblico in platea della sala consigliare anche l'ex assessore comunale alla salute la dottoressa Francesca Scarabeo in veste di semplice cittadina oltre che di professionista del settore sanitario. Sono qua come cittadina perché l'argomento del consiglio comunale di oggi pomeriggio del piano organizzativo sanitario è molto importante quindi come cittadina ha sempre avuto l'interesse e come chiaramente persona comunque che lavora nella sanità con grande interesse sempre in difesa della sanità pubblica penso che sia il caso di comunque di venire a seguire i lavori del consiglio comunale. Mi sarei aspettata una reazione molto più decisa molto più determinata ma soprattutto molto significativa da parte di tutti. purtroppo ancora una volta devo registrare che non è stato così. Intanto l'ex esponente di giunta annuncia una conferenza stampa per fornire il proprio punto di vista sulla vicenda che la vista fu riuscire dall'esecutivo. lunedì 24 alle 18 e 30 farò la conferenza stampa per spiegare le mie ragioni di quanto è accaduto. Penso che i tempi adesso siano giusti e quindi vi aspetto tutti lunedì 24 salita gialla nella provincia ore 18 e 30. Sono tutti invitati naturalmente anche il sindaco se volesse venire.